Faremo un videomapping, sì l'ho preso un po' da sosterisco però già, e comunque iniziamo la storia alternativa del 1918-1913. Sì, allora, chi ne dice Grecia di aiutarmi per attaccare l'impero ottomano insieme a Montenegro e Bulgaria? Sì, va bene, parteciperò perché poi l'impero ottomano mi sta davvero molto antipatico. Sì, ok, il piano in realtà è quello di espandersi, per conquistando la Serbia. Va bene, faccio quello che dice la Serbia, alla fine sono balcanico io. E cosa volete fare voi? Maledizione, dobbiamo attaccare. Direi di partecipare anch'io, così finalmente potremo finire la questione. La battaglia inizia, la guerra comincia e la Bulgaria e Grecia e Serbia e Montenegro iniziano, vedendo, è avanzata. La Serbia riesce a conquistare, ma l'Albania si libera e prende i parti, quindi la Turchia si deve per forza arrendere. Maledizione, mi sono indebolito. Oh no, è finita per me. Ho perso tantissimi territori. È ora di agire. Agire, finalmente conquisterai. Ehi, vi dichiaro guerra. Il Montenegro rimase neutrale. Ora, ok Bulgaria. Dopo la sconfitta è stata, è stata Bulgaria, vuoi toccare anche a te, ok. E così potrò riavvenne un po' di territorio. Giunta la tua ora Bulgaria. E la guerra comincia. La battaglia comincia, la Bulgaria inizia ad avere la meglio inizialmente, ma poi viene invasa. Già. Maledizione, ho perso ancora. La venduta arriverà. Ragazzi, il video finisce qua e noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao. Ciao.